Ho chiesto a Finzi di recuperare qualche informazione su questo presunto giornalista Eh, hai fatto bene Anche perché Previati si occupa di cronaca giudiziaria, no? Esatto, ed è questo il problema Nessuno l'ha mai sentito al minare Però tu hai capito Non dobbiamo pensare che tutti ce l'abbiano con noi No, figurati per quello e basta avanzare a Gramini Mi sta col fiato sul...